I giocatori della squadra Kalmar Ike FK hanno voluto mostrare piena solidarietà nei confronti del loro capitano che si chiama Amen, il quale purtroppo sta combattendo una battaglia molto forte contro il cancro. In che modo ha mostrato solidarietà e presto detto i compagni infatti squadra si sono letteralmente rasati i capelli a zero. Per dimostrare piena vicinanza a questo uomo la reazione è stata letteralmente commuovente, i giocatori hanno mostrato una vicinanza impressionante, grande solidarietà a Amen, la squadra ripeto si chiama proprio Kalmar Ike FK. Amen purtroppo ha un cancro, è entrato, è messo a piangere, gli ha trovati abbracciati, non ha scofferto purtroppo questa grafica tecnologia di cui ha afflitto però può contare su compagni di squadra veramente straordinari. Bene, complimenti dunque alla formazione di Kalmar Ike FK, il video termina qua, ciao!